Questa mostra, benvenuto, nasce dall'oscurità. Prima di arrivare a queste opere si deve attraversare il buio. Cos'è il benvenuto oggi? L'accoglienza per Sisley Jaffa è un atto antropologico universale. Un artista irriverente, tagliente, provocatorio, ma molto speciale, Sisley Jaffa, di origine kosovare. È un artista che indaga da tempo sui temi dell'identità, dell'accoglienza. Per me l'atto è più impegnato dal punto di vista sociale, politico, economico, relazioni geografiche, legalità forzata, illegalità forzata. Comunque sono comune cose che noi ci condividiamo e mettiamo in discussione. Benvenuto è un atto progressivo, non è una cosa statica. Davvero bisogna fare un investimento sul contemporaneo. La mostra di Sisley mi pare che vada esattamente in questa direzione. È un po' anche il tentativo che stiamo facendo di recuperare molto tempo perduto, lo sapete, nel settore dell'arte e dell'architettura contemporanea. Sono molto felice di dire che in occasione della mostra benvenuto acquisiremo un'opera importante di Sisley già fa in collezione del Max. La domanda è universale e non la risposta. Non vuole una risposta univoca. E in questo senso sta lavorando tuttora, a partire dal 97 fino ad oggi, sulla migrazione. Sunshade è un ombrellone da spiaggia. Avvicinandoci vediamo che sono rimasti impigliati, come dopo la fine di un naufragio, alcuni vestiti. Potrebbe essere la lettura di un naufragio di un immigrato, potrebbe essere, ma non è soltanto quello. È qualcosa che è successa in cui si sono incrociate due situazioni molto diverse. In questa esigenza, ha creato un lavoro specifico per il museo, che è una grande prisione, con le mani che si tratta sulla barra, senza un corpo. È come un ghost di una prisione. E questa in-betweenness dell'immagine della prisione, ciò che mostre una linea molto fina between what is freedom, what is surveillance, what is social control, and what is the perception of the society and the perception of the so-called criminal. Una parola. Mirce Vini. Benvenuto.